Ciao ragazze, allora nuovo video! Per questo video ho pensato di parlarvi di alcuni dupe, in realtà sono tre dupe, di profumi famosi che ho trovato proprio in questi giorni da Eurospin. Fatta questa premessa però volevo prima rubare due minuti del vostro tempo per parlarvi di un nuovo prodotto che sto provando in questi giorni, ossia il contorno occhi siero antietà 24 ore idronutriente al fiordaniso e tiglio di Naturissima. E' questo contorno occhi davvero molto efficace, con la confezione a pompetta e risulta, come potete vedere, un liquido abbastanza gelatinoso e che, devo dirvi, sono rimasta stupita, si assorbe davvero molto facilmente. Mi piace il fatto che la confezione permetta di sprecare il meno prodotto possibile, tutto aiuta la stesura del proprio contorno occhi e del proprio correttore preferito. Io comunque l'ho trovato su Amazon, la spedizione è stata davvero molto veloce, come ogni prodotto è naturissima, è 100% naturale, ha infatti un inci ottimo. Vi consiglio di provarlo perché comunque spesso si trova in promozione, vi lascio naturalmente il link diretto anche solo per dare un'occhiata al prodotto e alle specifiche giù nell'info box. Ma comunque ora parliamo dei nostri famosissimi profumi. In realtà io non ho ben capito se sono dei profumi in limited edition, ossia che sono fino a esaurimento scorte, oppure spero, come spero, verranno riassortiti ogni volta che il prodotto termina a scaffale. Vi dico questo perché ho trovato questi profumi sul volantino Eurospin nel periodo di San Valentino, quindi diciamo intorno al 14 febbraio. Ma poi ho visto che sono stati inseriti insieme a tutti gli altri profumi, di cui già vi ho parlato in un video che vi lascio qui nelle schede, quindi a tutti gli altri profumi della marca Fior di Magnolia, appunto di Eurospin. Hanno più o meno gli stessi ingredienti degli altri profumi che sono già in gamma permanente Eurospin, quindi sono tutti a base di fragranza e alcol denaturato. Ma parliamo ora nello specifico di tutti e tre i nuovi profumi. In primis abbiamo la fragranza Sweet Dreams, ossia l'unico profumo nuovo ad avere una forma più tondeggiante e non la classica allungata dei profumi Eurospin. E corrisponde a Hypnotique Poisson di Dior. Le altre due fragranze che poi ho trovato sono in primis Secret Moon, che naturalmente ha la forma più allungata, contiene sempre 100 ml di prodotto, e corrisponde alla fragranza Alien di Thierry Mugler. Io invece, avendo già due profumi che corrispondono a Hypnotique Poisson e Alien, ho deciso di acquistare, come potete vedere, questo, ossia Lady Sugar. Lady Sugar, naturalmente, come ogni profumo, contiene 100 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi. La forma così allungata è molto simile al dupe di Alien, di cui vi ho appena parlato. E tutti questi profumi Fior di Magnolea, come potete vedere, non sono Eau de Toilette, ma sono Eau de Parfum. E per questo, ragazze, io sinceramente li sto adorando, perché comunque, a differenza di altri dupe di profumi famosi, di cui vi ho parlato anche recentemente negli scorsi video, i profumi Eurospin, essendo dei veri e propri Eau de Parfum, almeno sulla mia pelle, sui miei vestiti, durano davvero tantissimo. E, parlando di prezzo, hanno un costo davvero molto competitivo. Calcoliamo che qui, appunto, 100 ml, li andiamo a pagare 5,99€ a prezzo pieno, o, come è successo a me, in promozione, 3,99€. Comunque, il profumo è buonissimo, si sente molto, su di me rimane su anche quelle 5-6 ore. E, appunto, questa fragranza, come anche l'altra fragranza di Eurospin che ho lì tra tutti i miei profumi, devo dirvi che la sto utilizzando tantissimo, a parte in questo periodo, perché comunque la sto testando, vedete, proprio nella quotidianità, non dandomi comunque fastidio alla pelle, ai vestiti, eccetera, li uso moltissimo, ecco. So che anche moltissime di voi adorano i profumi Eurospin, fatemi sapere, naturalmente, se li avete già acquistati, se li avete trovati, se vi siete trovate bene o meno. Io, ragazze, assolutamente ve li consiglio, perché comunque, oltre ad avere un rapporto qualità-prezzo, ottimo, comunque le fragranze sono davvero molto simili. Comunque, con questo, ragazze, è tutto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ciao! Ciao!